Che se, chiaramente lei insomma sa come la penso sul tema della condizione femminile a vari livelli, insomma siamo intervenuti a vari livelli, non credo che dovrebbe essere solamente questo chiaramente l'oggetto del confronto tra due leader politici indipendentemente dal fatto che siano donne, sono due leader politici e due leader politici si occupano di tutte le materie. E guardi la voglio fare soprattutto dal punto di vista politico perché quello che io considero più grave di questa vicenda non è il fatto in sé che pure lo sarebbe perché un po' di preoccupazione la mette come posso dire, però io non la considero neanche la cosa più grave. La cosa più grave, lei lo accennava nella domanda, è la sfrontatezza con la quale questo giudice della Corte dei Conti ritiene che sia normale farlo. Perché questo ci dice qualcosa. L'altra cosa che a me ha colpito molto è che non ci sia stato nessuno a sinistra a dire due parole su questo tema. Paolo Gentiloni che ha nominato questo giudice, Elie Schlein, lo dico anche perché io vengo chiamata in causa su qualunque cosa ogni giorno, nessuno ha ritenuto di dire una parola. Sa perché temo? Grazie Alberto Ciapparroni per RTL 125.